Grazie a tutti Buonasera, ci troviamo nella piazza di Bussolengo. Quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto dare visibilità al centro perché siamo in un momento di crisi e ci sembrava giusto rivitalizzare tutto quello che è il centro storico. Vorrei fare un augurio a tutti che questo sia un Natale e un nuovo anno dove si possano recuperare i valori veri della vita. In particolare vorrei augurare di recuperare il senso della sobrietà. La sobrietà non è tanto essere dimessi ma è recuperare un modo comportamentale diverso, un atteggiamento diverso anche nelle parole, sia nel modo di fare politica che nel vivere quotidiano. Sembra che oggi il più forte sia quello che urla di più. Riteniamo invece che il più forte sia quello che con la cortesia e la gentilezza riesce a raggiungere gli obiettivi. Per cui l'augurio è di diventare tutti un po' più sobri. Ringraziamo il sindaco di Bussolengo e adesso diamo la parola a due associazioni bussolenghesi, l'Avis e gli sportivi di Bussolengo. Buonasera, siamo qua immersi in questa bellissima atmosfera natalizia. Lancio un messaggio ai giovani, i giovani che sono il nostro futuro. Posso dire una cosa sola, il sangue non si trova e non si vende in farmacia ma arriva solo ed esclusivamente da donatori di sangue. Tutte le operazioni, i trapianti fatti all'ospedale hanno bisogno di sacche di sangue e queste sacche arrivano dai donatori. Colgo l'augurio per farvi più calorosi auguri dall'Avis di Bussolengo, Germano e... E Fernanda. Ciao! Viva l'Avis! Ciao a tutti, buon Natale. Siamo qui anche quest'anno in questa bellissima piazza che quest'anno finalmente torna adobata e si sente veramente il sapore del Natale. Faccio soprattutto un augurio importante e particolare ai nostri giovani che nello sport trovino veramente lo sfogo ideale per star bene. Questo è importantissimo. Così anche perché ritrovano nel futuro loro, diciamo, dei momenti molto importanti legati anche allo sport. Ripeto, vi faccio tantissimi auguri e viva lo sport e viva il Natale. Buon Natale a tutti, ciao!